Buongiorno a tutti, è davvero un piacere per me essere qui stamattina perché come hanno già detto le altre persone che sono intervenute, abbiamo fatto un lavoro che è stato duro negli ultimi mesi, per cui essere arrivati qui a questo punto veramente mi riempie di soddisfazione. Vorrei sottolineare il cambio di passo che questa amministrazione ha segnato, come ha detto il generale Alineri, ma è cosa che sapete già tutti, la procedura di sovraindebitamento mostra un passivo che è davvero ingente ed è evidentemente esito di una politica che è stata scellerata. Questa amministrazione si è assunta un impegno e naturalmente non ce la potremo fare da soli, abbiamo bisogno davvero dell'aiuto di tutti e devo dire che quello che mi ha fatta immediatamente appassionare alle questioni del villaggio è stata la passione che io immediatamente ho riscontrato. Nelle persone che ci lavorano, nelle persone che all'esterno evidentemente mi hanno mostrato un interesse, che è un interesse per la storia di un istituto che è un'eccellenza in Regione Campania. I nostri ragazzi hanno bisogno senz'altro di aumentare quelle che sono le loro competenze, ma secondo me quello che è fondamentale e da studiosa di politiche sociali è una cosa che mi appassiona e mi interessa molto, è anche la possibilità del convitto. Perché la povertà si studia, lo dice la bibliografia nazionale e internazionale di riferimento, si trasmette intergenerazionalmente. Per cui consentire a dei ragazzi di socializzare all'interno di un istituto come questo consente di interrompere questi meccanismi di trasmissione. Noi in questo modo possiamo dare possibilità a questi ragazzi che altrimenti sarebbero totalmente negate. E le diamo in un istituto che accresce le competenze, un istituto appunto di eccellenza che deve diventare, come dice il consigliere Graziano, al quale va il mio sentito ringraziamento perché davvero ci ha sostenuto in tutto il percorso. E' fondamentale appunto che diventi un centro di eccellenza della Campania, non solo del Casertano ma dell'intera Campania. Mi sento in questo momento pure di ringraziare i consiglieri regionali perché la Giunta ha lavorato davvero in sintonia ed è questo credo che dobbiamo continuare a fare. Consiglio, regionale e giunta devono lavorare insieme perché è attraverso la lettura dei territori che noi possiamo conoscere quello che avviene in tutta la regione. Per cui credo che lavorare in questo senso possa portare solo vantaggi e sviluppo per l'intero territorio. Un ringraziamento quindi al consiglio regionale, un ringraziamento al generale Alineri col quale ormai ci sentiamo quotidianamente e devo dire è stato veramente un lavoro sinergico. E non c'è, non è presente oggi ma vorrei ringraziare l'assessore al bilancio che pure ci ha dato un'enorme mano nell'ultimo periodo. E veramente abbiamo fatto salti mortali sia per il bilancio ma anche per consentire il pagamento di alcune somme dovute al villaggio. Quindi davvero abbiamo lavorato tutte insieme e naturalmente il Presidente senza il quale nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Grazie.